In televisione, nei video, è una cosa ma... Nooo... Ma che la cura è anche, ci diceva... Che assettacolare... Ciao, che arriva? Ehi, ehi, ehi... Io ho un getto bestiale... Ehi, io... Oh... Ehi, questa è l'unica volta che ha volato un lineare... Ma che fai su? E' una bambina viola! Lui, vieni un pesci... ma non ci vuole anche una sigaretta Se puoi tirare a pigliare, magari non è filmato, è rilassato! No, sta facendo i raffaello che ci sono a 200 gradi. 200 gradi... Tutta la pista l'ha asciugata. No, no, volendo, con il trauso, mettendo un altro canale... Sì, si è fermato! Abbiamo avuto un po' di vento buono, perché senza vento non la continuano. Sì, come appoggia si ferma subito! Comunque alla fine già ci arriva con la bocca! Eh, vabbè! Se non ci fai 16 litri... Ponga, dai, sei sempre il migliore! Non ti fai godere, dai! Il godere è un altro paio di mani! Spettacolare! ... è una bicicletta! ... ... ... ... Adesso si faccia il fine, poi non lo so, non lo so, non lo so. Ci avrà una griglia. Ora io vi faccio una prima parte. Ma io non lego la cucina. Non mi faccio, non lo sticco. Ha vuoi lo sticco? No, 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 non lo sticco. Non lo sticco. Non lo sticco, non ci succede niente. Non ti ho fumo, perché ha un po' di chi. Non lo staccio. Non lo staccio. Non lo staccio. Poi il resto è un po' pulito, non è che ci sfizia cosa, ma perciò, con due ore questi uoppositi, ma che si schiaffia? Ci sono i parametri, se no poi oggi non lo metti, prego mamma, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, ma ci sarà un sistema che controlla la temperatura è un po' pulito, sì sì, a 900 gradi, a 950 gradi, c'è lui che si sta sbambando l'aria, no, qua, tu, non ci può dire, la fusione, non ci devi scherzare, ti hai stucato e perciò che non ci cosa penso, se non ce la rischiamo.